Amici cari, come state? Spero tutto bene, spero che tutti quanti voi stiate benissimo Oggi torniamo qua nella serie di Ice Cream Perché cercheremo di scoprire insieme il nuovo Big Road in arrivo nel settimo capitolo Ebbene sì, su Ice Cream 7 potremo incontrare un nuovo Big Road Come sarà mai? Proviamo a scoprirlo insieme Ma come sempre, c'è te qui sotto tantesimi like, lasciate il più like possibile per supportare la serie E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Iscrivete al canale, attivate la campanellina Prima di partire comunque ci tenevo a ringraziare uno di voi che si chiama EEE Perché ho fatto l'abbonamento al canale, grazie mille davvero tanto per l'abbonamento Ma adesso direi di partire, cominciamo, andiamo a scoprire insieme il nuovo Big Road in arrivo Ma prima di farlo comunque dobbiamo concentrarci sui Big Road che abbiamo già visto qua All'interno del gioco, all'interno della saga di Ice Cream Infatti qua siamo su Ice Cream 6 Ma in questo sesto capitolo noi incontriamo Metti Il Big Road dedicato alla cucina Infatti Metti, come possiamo ben vedere, è un Big Road che noi dobbiamo sconfiggere Perché lei tiene la chiave Per poter consentire appunto al personaggio di poter raggiungere I suoi cari amichetti che stanno all'interno qua Della sala di controllo Guardatela lì Metti La Big Road della cucina che è lì che sta succhiando il gelato Noi dobbiamo metterla fuori uso per poter recuperare questa chiave che tiene appeso qui vicino E non si vede, e non si vede la chiave Vabbè insomma lei ha una chiave che ci serve per poter aprire questa porticina Però la chiave ce l'ha lei, ce l'ha la Big Road della cucina Guardatela lì, guardatela lì Metti che se ne va via Se ne va via Apri qui la porta Vediamo se riusciamo a vederla sta chiave Possibile che non si vede Già Mini Roddino Il Mini Rod della cucina Eccola lì la chiave Eccola lì Possibile che non riesco lì a prenderla, a raggiungerla, a raccoglierla Vabbè che io sto dietro Metti e lei non fa niente Cioè guardate Lo sto pure trascinando La sto trascinando così a casa Non so neanche che fine stia facendo No 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 Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto Via 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 Guardate lì come mi fissa, come mi fissa Ma che roba Guardate qua come la trascino Come la sposto Spettacolare Bellissima sta cosa Ma qui c'è una manina o un qualcosa Guardate qui La sto trascinando a modo mio Bellissimo Spettacolare Spettacolare Ma Rod è qui nei paraggi Qui nei paraggi C'ha Mini Rod E pure il Mini Rod Si ci mette pure il Mini Rod Bellissima sta cosa C'è qui Metti intrappolata Ma cosa Ma che roba Ma che roba L'ho trascinata qui a modo mio Ciao Metti Tutto bene? Tutto bene? Guardate qui Metti dove sta Sta proprio dentro il corridoio Via 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 Mamma mia Dove sta andando? Dove andrà mai Metti adesso In questo momento? Sta per raggiungere il suo gelato Il suo gelato Ma che roba Bellissimo Con Boris Non potrei mai fare una roba del genere Perché appena mi avvicino a lui Mi schiaffeggia come si deve Anche se mi abbasso Ora però io devo fare attenzione Perché il Rod Verrà da queste parti Verrà qui vicino Quindi devo fare molto Molta attenzione Rodino caro Gelataglio Tutto bene? Eccolo infatti Odiciò che veniva qui Da queste parti Quindi Rod Prendi sta trappola BOM Fuori uso Metti Adesso metto pure Metti Fuori uso Perché voglio provare A fare un altro esperimento Allora Quindi a quanto pare Io posso trascinarla Qui a mio piacimento Prima portarla di qua Io c'è quella porticina Ciao Metti Allora Beh vabbè però Metti Allora insomma Su Di corsa Fatti trascinare Apri sta porta tu nel frattempo Fatti trascinare Fatti trascinare La portiamo di qua Dopodiché chiudiamola E vabbè Allora diciamo Chiudiamo la porta Vai Chiudiamo la porta C'è un mini rod Eppure il mini rod Si ci mette Pure il mini rod No 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 Metti Mettiti fuori uso Mettiti fuori uso Ecco lì la chiave Posso raccoglierla Nel frattempo No eh Non posso farlo Allora Chiudi quella porta C'è un mini rod Te Non lo so Ti sposto da qualche parte Devo fare molta attenzione adesso Perché il rod Si sveglierà fra poco Quindi io nel dubbio Sapete che faccio Rod Stai qui a dormire eh Mi sa che non si sveglierà più Rodino Vediamo se metti Si metti Passa pure attraverso quella porta Passa anche di là Rod Ma cosa Ma tutte le trappole Che ti ho piazzato Ma cosa No Metti ha messo fuori uso Rod Metti l'ha messo fuori uso Ma cosa Quest'altro mini rod Che viene qua Ma quanti mini rod Che ci sono qui in giro Guardate qua Doppio mini rod Aspettate Voglio provare a fare una cosa Voglio provare ad invertire due mini rod Tu Vai di qua Io ti metto da questo lato Vediamo se lui prende il posto Dell'altro mini rod Stai di qua Stai di qua Ok Veloce 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 Perfetto Adesso chi è che si è svegliato Vai Anche tu fuori uso Anche tu fuori uso Allora vai Vai qui fuori Vai a cucinare Tu adesso invece diventi Mini rod chef Quindi chiudiamo qui la porta Portiamolo di qua Portiamolo a cucinare Vai mini rod Tu diventerai mini rod chef Ti promuovo a mini rod chef Ok Sono veloce 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 Vedi qua Di corsa di corsa di Ma guardate qua Uno è diventato mini rod chef Lui vabbè Sta continuando a fare sogni belli Sta continuandoli a dormire Ma che roba Ma che roba Spettacolare Bellissimo Insomma è così Sostituisco mini rod come se nulla fosse Chi è che sta facendo rumore Aiuto Ma cosa Ma cosa I mini rod chef Si è risvegliato Stanno direttamente Verso la cucina Ma no Ma scusa Mini rodino Torna di là Torna di là Ma insomma Ma che roba Ma che roba Lì però c'è metti Guardatele lì Emily metti Che sta succhiando il gelato Ma che stanno facendo Quei due Ma cosa stavano facendo Intanto quell'altro mini rod Sta facendo lì La lunga camminata Per raggiungere l'altro posto Ma no E io pensavo che si potevano invertire Due ruoli di mini rod Non si può fare invece Non si può fare niente Tornate di là Tra l'altro Sta zona come si chiama Area riservata Vabbè ma io tanto ci vado lo stesso Vado sempre lì Anche se è riservato o no Io ci vado sempre Ciao rad Fai pure il giro Fai pure il giro Tanto di qua non mi prendi Non mi prendi Ciao raddino Ciao raddino Caro tutto bene Tutto bene Ma cosa fai Ma cosa fai Non mi prenderei mai di qua In questo modo Non mi prenderei mai Ma cosa sto facendo Roddino caro Ma che belle trollate Che sto facendo Ciao buonasera rod Buonasera Tutto bene Tutto bene Peccato che non mi posso alzare Peccato Dove vado Dove stai andando Ma cosa Ma ti sei già reso così Ti sei già reso Ma dai Ma dai Vabbè apri quella porta Va andiamo a raggiungere Boris Di corsa Va che tanto rod È soltanto una delusione Roddino È soltanto una delusione Ma che roba Allora su Pronto Jay Dovresti fare una cosa Dovresti raggiungere Ormai quel che è rimasto Di Boris L'altro big rod Di corsa Di corsa Di corsa Di corsa Andiamo 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 Veloce 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 Adesso Apri qua il condotto Veloce Di corsa Raggiungiamo il museo Perché Boris A quanto pare Ha fatto una brutta fine Ebbene si Noi abbiamo fatto una troppola Una troppola molto cattiva È caduto di qua Infatti Roddino caro Ha messo tutte quante Ste travi Per evitare che qui Il buco rimanessa aperto E però Noi siamo furbi Perché noi possiamo raggiungere Il museo Ci possiamo andare direttamente Ci basta andare direttamente Di qua Via 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 Corri 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 personaggio Andiamo di qua Veloce 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 Scende di qua Lungo il condotto Facciamo soltanto attenzione Al mini rod Che è stato a queste parti Mini rod Sì di qua No Non è di qua Meno male Meno male Eh sì Mi sa che è di là Perché vedo Vabbè Senti mini rod Faccio prima Nel dubbio Nel dubbio Io mi porto già avanti Se andiamo di qua Posevo notare Boris L'altro big rod Che è caduto Che qui su screen 6 Ci dà un indizio molto importante Ci dà questo codice Il numero 7 Ebbene sì Perché qua all'interno di questo gioco C'è una porta segreta Che per poterla aprire Noi abbiamo bisogno di un codice E questi codici Ci danno queste uova Una di queste mano a Boris Il big rod Della sicurezza Che resta qui sotto E qui dentro Guardatelo qua È coperto Speriamo soltanto Che nei prossimi capitoli Boris possa tornare in vita Ebbene sì Perché i mini rod Quando noi li mettiamo fuori uso Tornano in vita E Boris Peccato che rimane così È veramente un gran peccato Anche Meti Su screen 6 Quando noi la mettiamo fuori uso Dopo un po' Si risveglia Soltanto Boris Che resta qui sotto Capisco che ha fatto una caduta Comunque da lì No Cioè insomma Comunque Si ha fatto una bella caduta Però dai Su Insomma Sarebbe bello rivederlo di nuovo In vita Vederlo di nuovo qua Che si muove lungo il percorso Vediamo se possiamo salire di qua Veloce veloce No Niente Non mi fa salire Non mi fa salire Sì Riesco a salire Meno male Meno male Di qua invece riesco a salire Sopra il buco No Non mi fa salire Non mi fa salire Anche se questo buco qua è trasparente Cioè guardate qua È trasparente Ma si vede il cielo dal buco Si vede il cielo Ma che roba Non ci posso credere Non ci posso credere Spettacolare Vabbè Adesso Andiamo a vedere un attimo Boris Quando si rimette in vita Dopodiché Passiamo all'immagine Di un ipotetico big road Che potremmo incontrare Su ice cream 7 Ed eccoci qua Su ice cream 4 Bene sì Boris E il big road Di escro in 4 È il boss Che noi dobbiamo sconfiggere Nel quarto capitolo Quindi devono vedere qua Velocemente Come si muove Come si comporta Vai 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 Muoviti 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 Possiamo pure schippare Qua il filmato E ci ritroviamo qua All'interno della fabbrica Di road Il gelataio Spettacolare Prendiamo qua Allora subito La chiamo inglese Veloce 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 Togliamo qua il lucchetto Ok Mini road E di là il mini road Quindi io diri Di nascondermi qua di lato Soso Mettiti qua di lato E che roba Ciao mini roddino Ciao Non sono di qua Non sono di qua Cioè veramente Sto mini road Della sicurezza È veramente Il peggiore Cioè non mi fiderei Neanche a lasciargli La cosa più brutta Del mondo Ma che roba Ed eccoci qua Qui possiamo beccare Boris Il big road Della sicurezza Voglio provare A fare un esperimento Con Metti Quando noi ci mettevamo Di sotto Non ci prendeva Vediamo se Boris Ma ci ci prende Ah quindi andiamo qua No andiamo qua Su white menu Perfetto Vediamo qua Ci prendiamo L'electrogan Perfetto Boris 3 2 1 E sciottiamo Quindi rimaniamo Qui sotto Vediamo se Boris Ci prende da sotto Proviamo a vedere Boris E se a quanto pare Anche da sotto Ci prende Anche da sotto Ci prende No Borisetto caro Perché fai questo Il tuo caro panino Perché Io gli volevo Tanto bene Vabbè Più o meno Gli volevo bene Perché alla fine Abbiamo messo fuori uno Va bene Dai Passiamo adesso Direttamente All'immagine Dell'uvo big rod Che potremo incontrare Su ice cream 7 Ed eccolo qua Il nuovo big rod Che potremo incontrare Nel prossimo capitolo Guardatelo qua È veramente un big rod A livello Robotico Cioè Si nota ancora di più Il suo carattere robotico Guardate qua Tutti quanti pezzi Come sono Pezzi metallici Tra l'altro Le gambe sembrano Proprio quelle da mini rod Sottili come i mini rod Per cui sopra c'è un corpo Ma guardate anche la maschera Com'è la testa È la stessa maschera Che ha rod il gelataio Con il cappello Più grande Lui potrebbe essere Una sorta di mini Anzi Che mini rod Questo qua enorme Un big rod Che potremmo incontrare Sui screen 7 Bene si Nel settimo capitolo Potremmo incontrare Un big rod Anche lì Un comunque Un qualcosa di enorme Da dover sconfiggere Come abbiamo visto Nel video scorso Nel settimo capitolo Noi potremmo incontrare Non so come zona La parte di imballaggio La zona dedicata ai dolci Oppure La fabbrica dei mini rod Quindi potremmo avere Come big rod Non so Uno che si occupa Comunque Di dover aprire i pacchi Oppure Un big rod Paschiccere Sarebbe veramente Molto divertente No seriamente A me piacerebbe Un big rod Paschiccere Oppure un big rod Comunque guardiano Della fabbricazione Dei mini rod Che deve stare lì A controllare Tutto quanto Se procede alla grande Lui potrebbe essere Uno di quei big rod Da dover sconfiggere Da dover eliminare In qualche modo Quindi chissà Non lo so Vedremo nel prossimo capitolo Quale big rod Dovremmo sconfiggere E ci sarà da divertirsi Non vedo l'ora Che esca Screenset Anche se Dovremmo aspettare Prima Mr. Meat 2 Quindi che direi per il momento Direi di finire Qual video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Quindi fidete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva E ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata